E siamo lo sport calcio, parliamo del Pescara che continua la preparazione in vista della trasferta di Verona, il primo turno, l'andata, il primo turno della fase nazionale dei play-off, in programma giovedì praticamente ci siamo, alle 20.30 il ritorno lunedì prossimo 22 maggio, alle 20.30 lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, le ultime domani la seduta in rifinitura, le ultime intanto c'è da dire che l'unico assente sarà l'ex Filippo Pellacani per Noie muscolari, rientrerà Plizzari che era stato assente nelle ultime partite della stagione regolare per un problema alla camiglia, sono due i ballottaggi per quanto riguarda la maglia di Terzino, Crescenzi sembrerebbe in vantaggio su Cancellotti per quanto riguarda invece l'attacco delle Monache favorito su De Sogus e Colai, poi naturalmente tutto confermato rispetto alle squadre schierate da Zeman negli ultimi turni di campionato domani la seduta di rifinitura, alle 12 parlerà il tecnico Boemo in conferenza stappa, per quanto riguarda invece la Virtus Verona, sarà prima la squadra da Scaligia, la degli infortunati Manfrin e Vesentini per entrambi stagione finita in anticipo, il 4-3-1-2 disegnato dal tecnico e presidente della Virtus Verona Luigi Fresco che ieri abbiamo avuto ospite via Zoom nel corso della trasmissione solo calcio, andate in onda su Rete 8, 4-3-1-2, probabile formazione, Dantil capitano, maglia numero 10, classe 89 dal 2017 in forza da Virtus Verona alle spalle di Fabbro e Casarotto, poi ci sarà anche Alfredson, uno degli elementi più rappresentativi, regista della squadra Veneta, Pescara compirà 39 anni a fine giugno, classe 84 ha giocato in Serie A nell'Udinese, nella Regina, soprattutto nel Verona. Il Pescara è testa di serie, lo ricordiamo, avrà a disposizione due risultati su tre dopo andata e ritorno in caso di parità complessiva, Biancazzurri ai quarti. Non sono previsti i tempi supplementari. Match di andata, ricordiamo ancora una volta, giovedì prossimo, 18 maggio, le 20 e 30, stadio Gavagnin Nocini di Verona, Capienza, circa 1.500 spettatori. C'è anche il prezzo, che è un prezzo unico, 15 euro per assistere al match. Oggi è stato designato l'arbitro, l'arbitro di questo match, Hermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, gli assistenti del Santo Spataru di Siena, Toce di Firenze, quarto uomo Andreano di Prato.